Ciao bimbi, come state? Oggi ho pensato che potremmo raccontarci insieme la storia di Cappuccetto Rosso, proprio come ce la raccontavamo al nido, insieme ai due amici che mi sono venuti a trovare. Che ne dite? Cappuccetto Rosso viveva insieme alla sua mamma in una casetta in mezzo al verde e a tanti alberi. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso le disse di portare i biscotti alla nonna e di fare la strada, quella che conosceva lei però, non quella più pericolosa, perché lì avrebbe potuto incontrare anche degli animali un po' più selvaggi. Cappuccetto Rosso le disse va bene e partì, ma in realtà la strada che fece fu un'altra, andando contro a quello che aveva detto la sua mamma. In questa strada, lungo questa strada, Cappuccetto Rosso però a un certo punto incontrò il lupo. Il lupo la fermò e le disse Ciao bella bambina, dove vai? E Cappuccetto Rosso disse vado dalla nonna a portarle i biscotti. Il lupo che era molto furbo disse va bene vado anch'io, ci vediamo Cappuccetto Rosso. In realtà corse velocissimo fino a casa della nonna, bussò forte e fece toc toc. La nonna che aveva già aperto la porta per Cappuccetto Rosso le disse Entra pure Cappuccetto, entra pure sono qui nel letto. E in realtà a un certo punto il lupo si avvicinò alla nonnina che era nel letto e in un sol boccone se la mangiò e finì nella pancia del lupo. Tutto in velocità si vestì con gli indumenti, con i vestiti della nonna e si mise a dormire nel letto ad aspettare Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso stava arrivando, cantava, ballava, non vedeva l'ora di vedere la sua nonna e bussò toc toc toc, nonna sono io, arrivò e arrivò la voce, una voce un po' diversa però, non proprio quella della nonna, era una voce un po' più profonda che diceva entra pure Cappuccetto Rosso, sono qui. Quando Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto però vide una cosa un po' strana. disse, ma nonna ma che mani grandi che hai, è per accarazzarti meglio, gli disse, ma nonna ma che orecchie grandi che hai, è per sentirti meglio, gli disse, ma nonna che bocca grande che hai. E a un certo punto il lupo travestito da nonna disse, è per mangiarti meglio, e anche Cappuccetto Rosso finì nella pancia del lupo. Per fortuna di lì passava un cacciatore che aveva visto tutta la scena dalla finestra. Allora decisi di entrare e di salvare sia la nonna che Cappuccetto Rosso. Apri la pancia del lupo, tira fuori la nonna e tira fuori Cappuccetto Rosso e poi ricuci tutto. E se ne andò, le prese tutte e due e scappò insieme a loro due. Quando il lupo si risvegliò, oh che mal di pancia che aveva, e capì cos'era successo. Tutto spaventato, decise di scappare lontano e non tornare mai più. Cappuccetto Rosso insieme alla nonna l'avevano vista brutta e erano riusciti a scappare per un pelo grazie al cacciatore. Capì quindi che doveva fare quando tornava a casa la strada che gli aveva detto la mamma e non l'altra. Salutò la nonna e tornò a casa. Allora bambini, adesso che ci siamo raccontati questa storia di Cappuccetto Rosso, ce la siamo ricordata. Abbiamo risalutato i nostri personaggi, abbiamo risalutato il nostro lupo che ci mancava tanto. Sono sicura che alcuni di voi se lo ricordavano. Aspettatevi altri video perché vi faremo vedere anche come si potrebbero creare delle marionette usando dei materiali di recupero. Va bene? Un bacione!